Ciao ragazzi, benvenuti su Castiubedrums. Il video di oggi è un video particolare, diverso dal solito, che in realtà non faccio da tanto tempo, non faccio da tanto tempo questa tipologia di video, ma mi piace, mi diverte, perché mi permette di confrontarmi con voi ed è un po' come se facessimo il video insieme. Quindi qualche tempo fa su Instagram, su Telegram, eccetera, vi ho chiesto di farmi delle domande anonime, vi ho lasciato la possibilità al box per fare le domande e vi ho detto scrivetemi delle domande scomode per batteristi, così da poi prendere le 10 domande più scomode fatte ai batteristi e poter cercare di rispondere. Quello che avete fatto è stato fighissimo, nel senso che mi avete scritto un po' di domande scomode, un po' di domande imbarazzanti per i batteristi, un po' di domande strane, un po' di cose che vi hanno chiesto, eccetera, quindi oggi voglio andare a prendere le 10 domande più scomode, imbarazzanti, strane, eccetera, e provare a dare una risposta, provare a capire se siamo in difetto noi batteristi nel momento in cui ci fanno quella domanda, o se invece sono in difetto le persone che ci fanno la domanda. Nel senso se è imbarazzante per noi, se... vabbè, un po' di cose voglio spiegarvi, almeno voglio cercare di rispondere a questa cosa, quindi mi preparo col mio cellulare in cui ho le domande anonime vostre, ovviamente anonime, quindi non so assolutamente chi siate, non so chi mi abbia fatto questa domanda, mando la sigla e poi cominciamo. Quindi, telefono in mano, partiamo subito, andrò a prenderle un po' a caso, non c'è un ordine vero, andrò a prenderle un po' a caso e poi vediamo cosa esce. Allora, perché suoni quella batteria? Ecco, partiamo bene. Perché suoni quella batteria? O io, piatti e pentole in cucina. Allora, questa è una di quelle domande che è un po' scomoda, nel senso che è un po' imbarazzante, ma per quanto mi riguarda non è tanto imbarazzante per noi batteristi, Cioè, un po' sì, perché sono quelle domande finte, finte simpatiche, che forse sono state simpatiche la prima volta che ce l'han fatta, la seconda, la terza, già un po' meno, dalla quarta, quinta, settima, millesima, incomincia a diventare un pochettino. Magari vi dicono anche, ma la tua batteria è mondial casa? E allora, gente che parla con i batteristi, mi rivolgo a voi. Dovete cercare, le battute sono belle, ma nel momento in cui una battuta è scontata, troppo scontata, non fa ridere. È come quando andate al bar e dite, mi faccia un caffè buono, come battuta, ma gliel'avranno fatta 60.000 volte. O quando qualcuno va ad un tabaccaio a comprare un grattevinci e gli dice, mi dia quello vincente. Cioè, sono battute che non fanno più ridere. Quindi, trovate qualcosa di diverso. Se hai piatti e pentole in cucina, bene, mi fa piacere, ma trovo un'altra battuta. Numero due, tu sarai quello meno stanco perché stai seduto tutto il tempo. Allora, perché dovrei essere meno stanco? Perché? Questa è una domanda che mi mette un po' in imbarazzo. Perché è vero, sto seduto, ma sto seduto facendo questa cosa qua. Quindi, probabilmente, mi faccio più fatica e mi stanco di più di quelli che sono in piedi, magari. Oppure, ma non è una questione di gara a chi si stanca di più. Cioè, sto suonando. Poi, anche se non mi stancassi, ma chi se ne frega. Tanto la cosa importante è suonare. Quindi, dov'è il problema dello stancarsi? A parte che ci stanchiamo di brutto, dipende anche che genere facciamo. Ma voglio vedere uno che fa metal a 280 bpm se non si stanca. Quindi, è una domanda del cavolo questa. Né barzante, né scomoda. È una domanda del cavolo. È scomoda nel senso che quando te la fanno, più che fare... Girarti, andare dall'altra parte, cosa fai? Niente, puoi solo fare quella cosa lì. Terza domanda. Perché non ascolti gli altri musicisti quando suoni? Ecco, questa è una domanda molto scomoda. Perché le domande più scomode di tutte sono quelle vere. Cioè, molto spesso noi batteristi, mentre suoniamo con la nostra band, mentre suoniamo con altri musicisti, non ascoltiamo gli altri musicisti. Non riesco a parlare. Musicisti. Questa è la verità. Perché capita troppo spesso. Ed è sbagliatissimo. Dobbiamo cercare di suonare con i musicisti. Non suonare per noi stessi e poi ci sono anche gli altri. Ma dobbiamo cercare di suonare per la band. Perché in questo modo, ascoltando gli altri musicisti, noi suoniamo meglio. Ma non suoniamo meglio di precisione, suoniamo meglio di tutti. No! Suoniamo per la musica. La cosa importante è sempre suonare per la musica. Magari vorremmo fare quel feel a un certo momento della canzone che è in 32esimi e fighissimo, col doppio pedale e cellino. Ma magari quel feel non serve. E se ascoltiamo gli altri musicisti, capiamo che quel feel in quel punto non serve. Questo è solo un esempio. Ma ascoltare gli altri musicisti e capire cosa serve, cosa possiamo dare veramente alla musica per rendere la musica più bella, è la cosa più importante di tutti. Quindi questa è una domanda scomoda perché è vera. Ascoltate gli altri musicisti mentre suonate. Quarta domanda scomoda. Sei una ragazza e suoniamo la batteria. Come mai? Non so cosa dire. Che problema c'è? Questa probabilmente è una ragazza che me l'ha scritto. E giustamente capisco che vi venga fatta questa domanda spesso. Ma dov'è il problema se una ragazza suona la batteria? Pensatela, pensatela al contrario. Pensate a voi, maschi, se uno arrivasse lì e vi dicesse Sei un ragazzo e suoni la batteria. Come mai? L'unica domanda che mi viene in mente, se mi facessero una domanda così, è Ma questo è scemo? Cioè, perché mi devi fare una domanda così? E una ragazza cosa pensa nel momento in cui gli viene fatta una domanda del genere? Pensa alla stessa identica cosa. Quindi, pensatela in questo modo qua. E vi darete una risposta. Le ragazze possono fare quello che facciamo noi ragazzi. È la stessa cosa. Cioè, un ragazzo può suonare il violino? Certo, assolutamente. Magari il violino è suonato più spesso da ragazze? Sì. Chi se ne frega? La batteria è suonata più spesso da ragazzi? Sì, ma ci sono un sacco di ragazze che ci aprono in due, così, quando suonano. Quindi, chi ha ragione? Può suonare solo ragazzo? Assolutamente no. Assolutamente no. A me queste domande fanno andare fuori di testa. Passiamo alla prossima. Ma è vero che chi suona... Ma no! Ma perché? Ma perché? Qual è stata la più grande figuraccia durante un live? E qui ce ne sarebbero un po'. Allora, vi spiego quella che spiego sempre quando me la chiedono. Allora, facciamo il soundcheck con una band, tutto a posto, avevamo le basi, tutto a click. Quindi bisognava aspettare il click, due battute di metronomo, il click e il metronomo, due battute di metronomo e poi si parte. Allora, io ho il mio jack attaccato al mio mixer, facciamo il soundcheck, tutto ok. Dopo il soundcheck il chitarrista mi dice Mi puoi dare per favore un attimo l'adattatore jack? Avevo l'adattatore da jack piccolo a jack grande. Me lo puoi dare un attimo così provo una cosa e poi dopo te lo ridò. Comincia il concerto, c'è un intro nel concerto in cui non suoniamo, ci prepariamo, eccetera. Io, in realtà, abbastanza tranquillo perché non ho mai avuto problemi, a un certo punto dico, ok, adesso dovrebbe partire il click. E il click non parte, non parte, non parte, non parte, finché tutta la band comincia e parte. Ma io ancora il click non l'avevo ricevuto. E dato che la band stava suonando, ho detto Vabbè, più o meno qualcosa sento perché il problema è che avendo il click in cuffia, avendo tutto in cuffia, non avevamo spie, quindi sentivo solo da fuori. Parto anch'io a suonare, a caso. Intanto mi giro verso il chitarrista che ovviamente mi stava guardando e gli dico, l'adattatore, mi serve l'adattatore in qualche modo. Lui mi dà l'adattatore. Mentre stavo suonando, lo infilo all'interno del jack, lo infilo nel mixer, continuavo a suonare, ma il problema è che sentendo quello che c'era nell'impianto fuori, io ero completamente fuori tempo. Quindi sento il click in cuffia, ma ero stortissimo. Non c'era niente a tempo di quello che stavo suonando. Quindi a un certo punto mi sono fermato. Ho aspettato che il click andasse un po' per sentire bene dove era l'uno e poi mi sono ripreso sull'uno e ho continuato il concerto. Però questa cosa sarà durata, credo, un minuto. Io in un minuto sono riuscito a non suonare e non partire con la band. Entrare suonando completamente fuori, quando mi è arrivato il click ero completamente, veramente, completamente fuori dal tempo. Poi fermarmi, aspettare un attimo così e partire a click. Quindi quella è stata veramente una figuraccia senza senso. Io non so alla gente fuori cosa abbia potuto pensare di me. Hai mai voluto prendere a schiaffi un fonico perché ti facevo impazzire? Allora, sì, mi è successo. Ma secondo me la domanda qui è da capire il perché. Perché il rapporto batterista-fonico è molto strano a volte. Ogni tanto ci trovano dei fonici che non sanno fare il loro lavoro. Questo è vero, quindi è giusto che ci incavogliamo. Ma bisogna sempre capire quanto un fonico rompe le scatole perché è giusto e quanto un batterista è permaloso. Mi è capitato molto spesso di prendermelo magari con un fonico o comunque senza dirgli nulla ma essere incavolato con me stesso perché lui mi voleva far fare delle cose, secondo me, sbagliate. Ma poi ho capito che in realtà era uno bravo e sapeva quello che faceva. Sapeva qual era l'accordatura giusta della batteria per far uscire meglio la batteria all'interno dell'impianto per il concerto oppure dirmi fai più così, fai più cos'ha, il microfono te lo metto qua perché così almeno suona meglio. Cioè cercate sempre di capire chi avete davanti. Secondo me questa è la cosa importante. E cercate sempre di aiutare, aiutarvi col fonico. Se batterista e fonico si aiutano a vicenda, funziona tutto molto bene. Se si scontrano, pensate che tanto quello che ha il coltello dalla parte del manico è lui perché è lui che vi farà uscire la batteria fuori dall'impianto. La batteria magari potrà suonare benissimo sul posto, suonata da voi ma è poi lui che la fa uscire fuori. Quindi parlate, comunicate e non scontratevi con i fonici perché quello che decide alla fine è lui. È vero che i batteristi sono più fighi delle persone normali? Allora questa è una domanda che viene fatta spesso e non riesco tanto a capire. È vero ci sono alcuni studi che dicono che i batteristi riescono a scendere il cervello per fare una cosa, l'altra eccetera ma in realtà secondo me boh non lo so magari per alcune cose di matematica può darsi perché noi abbiamo abbastanza sempre i numeri con la batteria se pensiamo ai linear, agli sticking eccetera ma per il resto una delle domande che una delle affermazioni anzi che vengono fatte più spesso è va beh ma tu sei coordinato quindi magari fai uno sport e ti dicono va beh ma comunque tu sei coordinato perché suoni la batteria ma cosa c'entra? Cioè se io vado a giocare a pallavolo e devo fare questo o questo che c'entra la batteria? quindi il fatto tante volte di dire sono più fighe ad esempio per quanto riguarda questa cosa della coordinazione che forse è la cosa che mi è successa di più che mi hanno detto di più boh no si pensa a questa cosa ma in realtà secondo me no siamo persone normalissime appunto magari possiamo aver più sviluppate alcune cose come chi suona magari la chitarra può aver sviluppate altre chi canta sviluppate altre chi fa il muratore sviluppate altre cioè ma in qualsiasi lavoro in qualsiasi mestiere in qualsiasi arte eccetera quindi sì più figli su questa cosa qua l'altro sarà più figo sull'altra cosa perché per aver seguito non basta essere bravi ma ci vuole carisma e immagine e tanti soldi per microfoni, scheda audio e telecamere? allora secondo me è vero fino a un certo punto nel senso che se pensiamo agli anni 90 bastava suonare cioè bastava tra virgolette ma bisognava essere bravi suonare la batteria e poi finiva lì tra virgolette comunque dovevi essere bravo in questa parte qua secondo me adesso chi mi ha scritto questo messaggio qua pensa nell'essere bravi lui pensa essere bravi suonare la batteria secondo me è sbagliato in questo momento nel 2023 cioè bisogna pensare che ci sono più lavori diversi all'interno di uno stesso lavoro cioè quindi il lavoro di batterista è solo una parte se vogliamo fare video devi essere bravo e devi studiare anche per fare video se vuoi andare su youtube, su instagram eccetera devi studiare per capire quel linguaggio lì quindi non è tanto secondo me una questione di carisma una questione di immagine è una questione di essere bravi studiare per crearsi questa cosa per crearsi una propria immagine un proprio carisma anche volendo tra virgolette un proprio linguaggio più che altro questa è la cosa importante per quanto riguarda la questione economica microfoni, schede audio e tutto è vero ci vogliono dei soldi ma non più come una volta adesso si riescono a trovare delle camere buone dei microfoni buoni, delle schede audio buone e tutto con prezzi abbordabili nel senso è una cosa fattibile poi ovviamente più vuoi qualità alta e più ci vogliono soldi questo è chiaro ma per cominciare secondo me è fattibile in generale il fatto di dire ci vogliono troppi soldi ci vuole immagini ci vuole carisma secondo me tante volte è un po' una scusa per non partire dire tanto non ce la faccio per questo provate partite con quello che avete volete fare i video? partite con l'iPhone e senza microfoni col microfono dell'iPhone provate a vedere cosa succede pian pianino migliorerete quello poi quando vorrete fare l'upgrade allora magari comincerete a spendere qualche soldino per fare l'upgrade per diventare migliori e pian pianino crescere come qualità ma è una cosa che si crea non è che uno ce l'ha uno non ce l'ha è un po' come quando si dice del talento eh quello ha talento quindi è facile no quello avrà talento magari portato eccetera ma se costruite una cosa per arrivare fin lì quindi questo è molto importante pensate sempre che ci si può arrivare è il come la cosa importante ma ci si può arrivare in qualche modo decima domanda vabbè questa è la your biggest fear cioè la tua più grande paura non saprei secondo me la cosa la paura più grande che ci possa essere è non avere più lo stimolo di mettersi in gioco perdere la la voglia di mettersi in gioco perché questa almeno per quanto mi riguarda è la cosa più importante di tutte perdere io sono sempre in cerca di stimoli nuovi di cose nuove da fare che possono essere dalla cosa che suona la batteria alla camera nuova che magari mi permette di avere una qualità migliore allora la devo imparare al programma sul computer nuovo che devo imparare per fare i pdf per smontare eccetera però sempre uno stimolo in più per migliorare questo è la cosa che mi fa andare sempre avanti il fatto di cercare anche di fare un video diverso dal solito come questo e perdere questa voglia qua perdere questo stimolo qua forse è la cosa che più mi spaventa non mi spaventa adesso perché non succede cioè sono tranquillo che non succeda però se dovesse succedere è una cosa che mi potrebbe spaventare molto quindi questa forse è la più grande paura e sì questa qui più di qualsiasi altra cosa che venga in mente subito al volo tipo rompersi un braccio poter più suonare la batteria o altre cose questa qua direi perché è il motore che ci fa andare avanti o almeno che mi fa andare avanti sempre con la grinta giusta quindi ragazzi queste erano le domande scomode le domande invadenti le domande inutili quelle imbalazzanti cioè erano le dieci domande più una perché vabbè una quella che mi ha scritto quelli che suonano la batteria sugli drogati che cavolo di domanda è non è vero ma vabbè ho voluto comunque metterle in mezzo perché è una cosa che si pensa tante volte anche in generale dei musicisti e boh non ha senso ma vabbè comunque spero che questo video vi sia piaciuto vi chiederei una cosa prendete una domanda di queste dieci e scrivetemi la domanda la risposta qui so la domanda scrivetemi anzi scrivetemi la domanda e poi la vostra risposta sotto non ve le chiedete tutte dieci ma almeno di una scrivetemi la domanda e poi scrivetemi la vostra risposta sotto così almeno capiamo un po' che cosa ne pensate e tutto quanto io con questo la finisco qua mi raccomando vi ricordo di iscrivervi al canale di farmi sapere se queste tipologie di video vi piacciono se ne volete altre o magari datemi anche qualche idea nuova di video in cui possiamo interloquire no io e voi e basta noi ci vediamo al prossimo video andate anche sul mio sito gastrodrones.it dove trovate tutti i corsi ciao 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 ciao